Musica Presto, amico mio, ti ho convocato per dirti qualcosa di interessante. Dato che siamo riusciti ad abbattere il Pridman e abbiamo eliminato innumerevoli nemici, ho pensato di estirpare tutti i nostri nemici del Komol. Abbiamo le armi, abbiamo le armature atomiche, abbiamo ciò che ci serve. Quindi volevo dare il via all'operazione Libertà Futura. Cosa ne pensi? Generale, è un bel progetto ma richiede molto tempo. C'è ancora l'istituto in giro. E poi ci sono fazioni come i Gunner, i fanatici dell'atomo e soprattutto ci sono molti predoni. Sì, lo so. Ma se li colpiamo uno ad uno, riusciremo ad eliminarli. E poi noi abbiamo i nostri alleati, come i Railroad. E abbiamo anche i nostri insediamenti, che sono sparsi un po' dappertutto. Ci resta solamente eliminarli tutti. Avere il tuo appoggio mi renderebbe più sicuro nel portare avanti questo progetto. Ritengo che la decisione finale spetti a lei. Se dobbiamo liberare il Komonvel da chi lo minaccia, allora lei avrà il mio appoggio. Quando vuole, io sarò a sua disposizione. Grazie presto. Ora che ho il tuo consenso, mi sento più sicuro. Più alleati abbiamo, più probabilità ci sono che le stade del Komonvel un giorno saranno sicure. Prepara tutti i Minutemen che abbiamo a disposizione. Ci penserò personalmente ad avvertire il Railroad. Domani sera partiremo per Lexington. Iniziremo da lì, giusto per mandare un messaggio a tutti. E i Minutemen stanno arrivando. Come desidera, Generale, avvertirò tutti gli insediamenti e Minutemen che abbiamo. Diamo inizio all'operazione Libertà Futura. Presto, muoviamoci. Ok. Ok. Sento degli spari. Stiamo attenti a come ci muoviamo. Ma guarda un po' qui cosa abbiamo. Abbastanza. Cosa? 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 Oh, cazzo. Dove sono? Quanto pensi di poter resistere? Cazzo! Benvenuti a Lexington. Penso che volevano dirci questo. Ma guarda un po' cosa c'è sopra la nostra testa. Gull! Gull Ferali! Con l'affortuna abbiamo finito. Tredone centrato. Andiamo a vedere se ce ne sono altri da su. Cazzo, 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 cazzo. Ma guarda un po'. Un Fat Man. Presto, questo è tuo. Sta attento a come lo utilizzi. Quest'arma è molto pericolosa. Starò molto attento, generale. E quelle luci lì? Vediamo se c'è qualcuno. Centro! Preston, preparati. Mi sa che elimineremo un bel po' di predoni. Forse ho trovato qualcosa. Qui non c'è niente. Cazzo, cazzo, cazzo. Perciò, cazzo, 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 cazzo. Preston, mi raccomando, fai attenzione. Ma che... Cosa? Ora ci divertiamo. Tu li vedi? Giù, Preston, spara giù. Posso stare qui tutto il giorno? Non c'è una cosa che non si acquasta qui. Tipico dei predoni. Ti troverò. Dove sarà? È ora di morire! È ora di morire! Ma che cosa è esploso? Dei barili generale. E questa? Dove ci porta? Mio Dio. Ma quanto è grande questo mostro? Un robot intatto. Un robot intatto. Che cazzo è stato? Speriamo che non siano di nuovo i ghoul ferali. Come se! Fuori! Fuori! Ok, basta cazzate! Chi è là? Vai! Corne indietro! Mi stavo diverto. dannazione generale tutto bene per poco non mi colpiva durido fredone mi sto solo scaldando adesso ci si diverte abbiamo finito aspetta ecco voi vogliamo che non ce ne siano altri dato che le torrette le abbiamo distrutte vediamo se ci vedono anche al buio prima o poi dovrai ricaricare ma che fine avrà fatto sono di sotto presto scendiamo non pensavo che le ascensore funzionessero livello inferiore siamo ancora vivi no? dovreste ringraziarmi invece di lamentarti sempre ora basta parlare potrebbe esserci qualcuno in agguato non agitarti tanto sto andando che cazzo che cazzo ti risposto è la fine per te facciamoli fuori e anche questi sono andati c'è qualcun altro che vuole farsi avanti? no dai torna indietro mi stavo divertendo tempo scaduto hai sentito davvero sto impazzendo abbiamo finito qui dentro usciamo ed eliminiamo i pretoni rimasti c'è qualcuno non ha senso lasciarlo a qualche saccheggine bravo quello ecco non ha senso 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 non ha senso